Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, nato come Dario Gabriel Oliviero il 12 luglio 1972 a Torino, e il terzo genito di Claudio Oliviero, pasticcere Vicentino, e Isabella Garchio, di origine messinese, è cresciuto a settimo torinese, ha due sorelle maggiori, Nadia e Sonia, e una minore, Laura, alto 1,92 metri. Nel 1990 vince il titolo di Mister VII Torinese, concorso che l'anno successivo lo porterà a vincere il titolo del concorso Il più bello d'Italia. Il concorso era gestito, tra gli altri, da Lele Mora. Nel frattempo svolge il servizio militare presso l'arma dei carabinieri. Grave lutto per Gabriel Garco. L'attore torinese ha annunciato, con un triste messaggio su Instagram, la morte di suo papà che non stava bene da tempo. Ciao papà, fai buon viaggio, scrive Gabriel a corredo di alcune fotografie che ritraggono l'uomo da giovane. Insieme alla mamma, tra tante emoticon a forma di cuore.